Un altro fondamentale tassello è andato al suo posto per consentire la realizzazione del porto de Nebro di Sant'Agata Militello. Il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, diretto da Fulvio Bellomo, ha dato infatti l'ok all'aperizia di variante per l'intervento necessario a risolvere il sifonamento in una parte della diga di sopraflutto. Un problema emerso in corso d'opera durante i lavori, attualmente in fase di esecuzione per il completamento dell'infrastruttura. È stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni per cui l'intervento può rientrare nella procedura dei cosiddetti lavori complementari all'appalto in corso, riscontrando positivamente la richiesta avanzata lo scorso 30 dicembre dal sindaco Bruno Mancuso e dal RUP, l'ingegner Basilio Ridolfo. Una notizia già anticipata dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone la scorsa settimana, nel corso del suo sopralluogo a Sant'Agata, è oggi ufficializzata. La regione ha dato infatti il via libera al finanziamento per un importo complessivo di poco superiori a 10.630.000 euro. Soddisfazione ha espresso il sindaco Sant'Agatese per l'importante risultato, che consente di risolvere definitivamente una criticità che avrebbe pregiudicato la funzionalità dell'intera opera portuale. Il progetto è già pronto per essere sottoposto al necessario parere della Commissione regionale Lavori Pubblici e, nei tempi tecnici, si potrà finalmente partire con i lavori. Nel frattempo, commenta il sindaco Mancuso, l'obiettivo è ultimare le altre opere tuttora in via di esecuzione, come sollecitato all'impresa dallo stesso assessore la scorsa settimana, e giungere così nei prossimi mesi al definitivo completamento del porto. Il termine ultimo per completare i lavori, infatti, inizialmente previsto per quest'estate, è già stato prorogato per fine 2021-inizio 2022.